Aumentano i contagi in provincia, aumentano anche i ricoveri, restano stabili i dati del capoluogo. Il fine settimana racconta una provincia dove il covid rispetto al mese passato sembra aver rallentato la morsa e tuttavia non completamente. Sono 230 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore e si conta ancora un decesso. Sono 623 i positivi a Caltanissetta ma aumenta il numero complessivo dei ricoverati, sono 45. 4 in terapia intensiva, 2776 il numero complessivo dei positivi in quarantena domiciliare e intanto mancano tre settimane alla scadenza dei contratti del personale assunto per l'emergenza covid. La regione ancora non ha dato indicazioni sulla proroga e le ASP vanno in ordine sparso.